Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Il 25 giugno Roberto Vecchioni compirà 80 anni, un traguardo molto importante che non potrà festeggiare con tutti i suoi figli al completo, essendo Arrigo divenuto prematuramente un angelo. Eppure sono proprio i suoi figli il motore dei suoi brani, che rimarranno tra i più ascoltati del panorama musicale italiano. Non appena la notizia del decesso del 36enne Arrigo Vecchioni ha iniziato a diffondersi, in tanti hanno ricordato la malattia dell'ultimo genito del cantante, Edoardo. È affetto da sclerosi multipla, una patologia non certo facile, trattandosi di una malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale, cervello, midollo spinale e nervi ottici, causando molteplici disturbi che possono riguardare la vista. I movimenti degli arti, la sensibilità e l'equilibrio. Il grande pubblico, dopo la morte di Arrigo, ha inevitabilmente ricordato la malattia del fratello minore Edoardo Vecchioni, 31 anni, che in un romanzo, Sclero, scritto dunque poco tempo fa, ha raccontato della vita sconvolta dalla diagnosi di sclerosi multipla. In ogni caso, il rapporto che lega Vecchioni ai suoi figli è un rapporto solido, amichevole, complice che un po' tutti noi vorremmo avere con i nostri genitori.